Perché io da qua posso salire, eccolo Oddio, oddio Io sono in mezzo a mille scontri E non sono ancora stato avvistato da nessuno e nessuno ha avvistato me Dov'è si è buttato il tizio che... Oddio che spavento Andiamo, andiamo, andiamo su così in Royal È da un po' che non ci gioco ma c'ho voglia Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale Oggi sono di nuovo qui su Cousin Royale Si stanno già smitragliando come dei pazzi Peccato che io non abbia ancora trovato un'arma ma solo un caricatore per la stessa Allora adesso prendo questa porta Aiuto, 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 aiuto Via, via, c'ho la pistola, c'ho la pistola, c'ho la pistola Via, 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 via Carica il fucile Carica Carica il fucile Carica il fucile Caricalo Perché non mi prende in mano il fucile? Carica No, 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 no Non ci credo mai Avevo trovato il fucile, mi ha coltellato Vabbè, non è uno dei migliori inizi Ma da qui potremo andare solo meglio Dopo l'inizio di poco fa non può che andare migliorando la situazione Quindi se prima è andata così male si spera proprio che stavolta vada un filino meglio E mi raccomando ragazzi se volete vedere altri video di questo gioco Lasciate tanti mi piace in questo momento In modo da farmelo capire E finalmente ho trovato una colt Ma si stanno già di nuovo smitragliando qua vicino nei parages Quindi devo stare attento perché con solo questa colt Allora lì c'è un magazine ma non me ne faccio niente Non ho trovato cure Oh c'è un magazzino della... un magazzino Un caricatore della colt il che mi fa piacere perché è l'unica arma che ho Ma vorrei trovare qualcosina di meglio se permettete Perché sento dei grandi schioppi Sicuramente la mia colt non può molto contro quei grandi schioppi Ed è per questo che ho trovato il mio bellissimo e fidatissimo Carno Antotto E anche una delicious pizza Questo è molto buono Cioè nel senso la pizza è deliziosa Ma il fatto di averla trovata è una cosa molto positiva Mi stavo dimenticando che di solito tendo a giocare in prima persona Quando sono qua in queste zone Dentro alle case intendo Ma poi in sto giro sono non troppo fortunato per quanto riguarda il loot Non ho trovato una borsa Non ho trovato niente di che Sì un'arma ok C'è un'altra pistola ma No grazie c'ho già la mia di pistole Magari chiudo anche la porta che ne dici C'è qualcosina qua Uh c'è uno scope Da 3,5 E io non capisco più niente in prima persona Mi sono trovato rimbalzato via Guarda sta porta mi rimbalza via Non capisco via via Apriamola questa di porte Dai mi rimetto un attimo in terza persona Perché in prima persona C'è qualcosa di strano In queste partite Allora qua non c'è più niente Però c'è gente sicuramente qua intorno Perché sentivo un sacco Uh Dove? Se io aprissi e uscissi da qua Ho sentito del casino qua vicino Sento dei passi qui Qua c'è un gower Posso prenderlo? Dove si è buttato il tizio? Eh! Oddio che spavento Oddio che spavento Mi sono spaventato tantissimo Non aveva neanche una borsa Niente? Diamo una mangiata Ok perfetto Sto recuperando la vita Questo qua mi ha spaventato Parecchio eh Devo ammetterlo Si è messo lì nell'angolino Ho detto questa è la mia fine Farò la fine di prima E invece non è stato così Per fortuna Perché il gower A differenza del car Può sparare a Raffic Cioè semi automatico Quindi Se voi continuate a premere Continua ad aprirsi Ok 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 Perfetto Ho trovato una Una busta E anche quello che mi rigenera la vita Questo è ottimo Non mi aspettavo di trovare Del loot decente stavolta Allora il centro della mappa È da questa parte Io non cercherò molto altro Posso mettere Volendo un mirino Sul gower Perché sull'altro Al momento Non credo di utilizzarlo Il car Se poi volessi utilizzare il car Perché magari è più preciso Sostituisco Il tutto Ora cerco di andare Verso Oh Ma stanno sparando a me? No no Non stanno sparando a me Per fortuna Fammi salire Fammi uscire dall'acqua Però Grazie Sto sentendo Tanto casino Da questa direzione E la cosa potrebbe essere Preoccupante Buongiorno Io vengo qua Spesso Ma non ho mai sentito Tutto questo casino Com'è possibile? Dov'è il tizio? Eh si stavano sparando qua Oh io entro Via 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 Non capisco dove siano Non lo capisco proprio Quello là è un tizio Non riesco a capire Se quella è la punta Di una montagna Già di una montagna Di un albero O un tizio Che casino Vai via Vado 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 anche se questo Mi costerà la vita Vado 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 Ok E ok Mi devo ricordare Che se clicco una volta sola Mi mette il mierino metallico Se tengo premuto Mi mette l'altro Però io qua sentivo Troppe smitragliate E adesso non vedo Oh perché forse erano qui C'è ancora qualcuno Qua dentro? Oh dannati Dove siete? Dannati Sento casino Da queste parti Ma non vedo nessuno Oh ma Quante battaglie ci sono In sta partita Ma poi tutto è in mezzo Al bosco qua Sento sparare ovunque Ah c'è un camion qui C'è un camion qui Potrei usarlo per scappare Io non esisto Sento casino qua davanti Però forse è meglio Che io vada a controllare Prima di andarmene via Col camion Ah ma perché qui c'è un'altra Trincea Barra bunker È meglio che io vada Abbassato Guarda 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 Tutti gli scontri nel bunker Non capisco come mai Io sono in mezzo A mille scontri E non sono ancora Stato avvistato Da nessuno E nessuno ha avvistato Me Ma è possibile Una roba del genere Oh si sono per forza Qua dentro Li voglio fare Oh No 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 Mi ha preso uno Dalle spalle Può entrare da qua Vai Morto C'è qualcun altro Arriva da lì su O da dietro Non so se salire Ce l'ha una granata Sì ce l'aveva lui una granata Gliela tirerei sopra E lui è lì sopra Posso fare tipo Così Non so dove l'ho tirata Via 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 Forse esplosa sopra Ma io non posso Devo fare Faccio il giro Faccio il giro Faccio il giro Me ne vado Me ne vado Faccio il giro al massimo Perché io da qua posso salire Eccolo Oddio oddio No 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 Non ci credo Non so perché Non mi ha sparato Non mi ha sparato No Dannatissimi E vabbè io direi che per questo video è tutto Ero in una situazione Kafkian C'erano Esplosione a sinistra Esplosione a destra Quello di là Questo di qua Questo di qua Se volete un altro episodio di questo gioco Lasciatemelo scritto nei commenti Se arriviamo a 513 mi piace Farò un nuovo episodio di Cuisine Royale Detto questo Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Se non siete ancora iscritti Fatelo adesso Ciao 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 Grazie a tutti.